buongiorno a tutti e benvenuti a occhio ai giornali la rassegna stampa di fano tv delle 7.30 subito il santo del giorno la chiesa oggi ricorda san vincenzo di saragozza san vincenzo di saragozza fu ucciso a valenza sotto diocleziano nel 304 è patrono di vicenza saragozza e lisbona protegge risicultori marinai portatori di viti e vinai e vasai lo si invoca contro i pericoli del mare nel novecento si sono chiamati vincenzo 560 mila italiani questo tra le curiosità il sole è sorto alle 7.34 e tramonterà alle 17.05 a fano sono 7 gradi quindi ancora fresco questa mattina poco vento ancora dalla mezzanotte è piovuto quasi nulla mentre ieri insomma la pioggia è certamente caduta anche se non in maniera abbondante vedete la telecamera che ci mostra una giornata che si apre comunque all'insegna della nuvolosità oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso al mattino con aumento della copertura nel pomeriggio possibilità di brevi e occasionali piovaschi durante la mattinata più probabili nelle zone interne dal tardo pomeriggio deboli piovaschi diffusi ed isolati rovesci le temperature sono stazionari eventi sono moderati sud occidentali il mare poco mosso con moto ondosi in aumento nella serata nella giornata di domani venerdì 23 gennaio diminuiscono le temperature e aumentano le precipitazioni a carattere nevoso e il limite della neve scenderà attorno agli 800 metri diffuse precipitazioni a prevalente carattere di rovescio anche lungo la costa particolarmente insistenti nella zona dell'entroterra e meridionale della regione Marche i venti nord orientale il mare sarà molto mosso per la giornata di sabato 24 invece avremo un cielo poco nuvoloso con ancora nuvolosità e precipitazioni in particolare nella parte centro meridionale della regione Marche per domenica 25 di gennaio e l'inizio della prossima settimana è atteso un generale miglioramento con l'ingresso di aria più fresca cominciamo dal messaggero di Fano profughi alla plaza si archivia il caso distensione tra l'amministrazione guidata dal sindaco massimo seri che vedete nella fotografia e i commercianti il sindaco e il suo vice hanno incontrato gli operatori la questione si sposta adesso sulla futura accoglienza turistica Marchegiani la viabilità sarà più sostenibile oggi a cucurano di Fano intanto l'addio al pensionato travolto e ucciso nozze gay ricciati la circolare del ministro al Fano illegittima la parlamentare locale ne chiede il ritiro insieme al gruppo di sinistra ecologia e libertà e ricorda la vicenda della coppia fanese scontro tra mercantili il mare restituisce uno dei dispersi il corpo di un tunisino di un marinaio turco è stato recuperato a largo di Fano nella giornata di ieri il tragico incidente era avvenuto il 28 dicembre scorso al porto di Ravenna non c'è pace alla scuola rodari di Pesaro piove dentro ad un'aula i bimbi sono stati così spostati intanto apre oggi il cantiere per per ristrutturare il sottopassaggio in zona dei gelsi a Pesaro acido braccio di ferro in appello ad ancona l'udienza per l'aguato a lucia annibali in primo grado condanne per 48 anni in tre la prima pagina invece del messaggero pd primarie senza i centristi la nascita di area popolare mette in stand by la partecipazione di nuovo centrodestra e udc stasera c'è un'assemblea finora in campo i due competitor ceriscioli e marcolini poi il messaggero racconta di due aziende due aziende gestite da un fanese e da una da una fanese da un pesarese due aziende che sono andate da vespa a raccontare come il fisco massacra e ci massacra ci mettiamo anche quelli che non sono andati da vespa ma che sono comunque tartassati dal fisco pagamenti a sei mesi cantieri che si fermano ma il fisco bussa comunque alle porte delle aziende sempre puntuale le storie di due imprenditori locali sono state protagonista di un'edizione di porta a porta di bruno vespa in onda stasera o domani in base all'attualità politica due associati della cna paolo marangoni con la sua dita di autotrasporti di pesaro e lucia pierleoni imprenditrice di ilea fano hanno raccontato la loro le loro testimonianze segnali di ripresa più mutui per comprare le case in provincia sono aumentati del 19 per cento e nelle marche incrementi anche superiori andiamo adesso sul corriere adriatico la pagina di fano sicurezza vertice convocato dal prefetto in municipio si riuniscono le forze dell'ordine e rappresentanti istituzionali dopo l'ondata di furti e il primo comitato presieduto da luigi pizzi saranno analizzati i dati e le proposte e proposte le contromisure tagliati altri 4 milioni e mezzo di euro la giunta deve fare economia e potrebbe saltare anche qualche servizio sulle luminarie la cecchettelli contesta i dati della dell'udc assente isti carloni cucuzza e severi il consiglio approva 85 delibere presentato il bilancio delle sedute il malessere della minoranza commissione revocata forza italia protesta il presidente aveva un impegno di lavoro sempre dal corriere adriatico carnevale sono state montate le tribune in viale gramsci fino al 30 i paichi per 15 persone venduti a 165 euro invece di 195 disponibili anche 250 poltroncine a 10 euro l'una e entrata nel clou la macchina organizzativa per i servizi cimiteriali invece appalto da un milione e mezzo di euro il bando del comune per quattro anni andiamo adesso invece sulla pagina di pesaro e urbino del corriere adriatico presto in pensione quattro medici continua a tenere banco praticamente ogni giorno il tema della sanità sulle pagine del corriere adriatico di fossombrone il comitato pro ospedale esprime preoccupazione per i tempi di sostituzione appunto di questi quattro medici che presto andranno in pensione andiamo sulla pagina di pesaro invece adesso del corriere i conti della pesaro parcheggi tornano e come il presidente montanari replica crescentini pronti a fornirle nuovamente tutti i chiarimenti imprese appalti e fisco una mara babele in tv da bruno vespa il caso di due aziende pesaresi paghiamo le tasse sui crediti mai incassati e chiudiamo con il resto del carlino candelara si allena si allea con il carnevale di fano appuntamento per i più piccoli e mostra dedicata alle allegorie delle maschere la pagina di fano invece in apertura ritrovato a largo di fano il corpo del marinaio disperso nella collisione di ravenna a centro pagina chiediamo il mutuo per pagare le tasse lo stato gabelliere impresa fanese intervistata dalla troupe di porta a porta e ancora bilancio buco di 4 milioni ma il sindaco rilancia il lido una notte dello sport per vivacizzare l'estate il punto sull'attività del consiglio comunale da febbraio passa allo streaming quindi si potrà vedere attraverso attraverso il computer i tablet e quant'altro terme paolini sonda la soprintendenza la decisione della maggioranza intanto si stringono i tempi per la fusione di aset e ancora albergo e bar erano troppo illuminati il titolare denunciato per furto di elettricità ha fatto tutto l'elettricista lui si è giustificato ma poi ha confessato il reato commesso e anche aggravato il contatore elettrico era stato bypassato i carabinieri vedendo le luci sempre accese si sono insospettiti hanno indagato alla fine hanno trovato appunto l'escamotage aeroporto la soluzione è il depotenziamento cavallini scrive al sindaco convertiamolo in aviosuperficie e ancora dramma il dramma degli sfratti si muove l'assemblea per la casa nessuno resti senza da fossombrone chiara billi contro zanchetti ma quali dimissioni di giunta scontro politico sul presunto peculato di un dipendente caso delicato il vice sindaco fa notare che anche la minoranza non si era accorta di nulla e poi l'ultima pagina del resto del carlino sulla crociata di ricci contro i maleducati che non ripuliscono gli escrementi dei propri animali ogni giorno racconta questa signora pulisco il marciapiede è giusto che chi sporca paghi dibattito che come abbiamo visto si è spostato poi anche nella vicina fano dove chi ha seguito ieri il nostro telegiornale le 20 e 30 ha potuto ascoltare anche il parere dei fanesi raccolti dalla nostra simona zonghetti è tutto grazie per averci seguito vi ricordo occhialanotizia.it il nostro portale sempre aggiornato e questa sera il tg occhialanotizia buona giornata a tutti arrivederci